e mercoledì ventitré novembre buongiorno Friuli e bentrovati a questa nostra prima diretta del mattino che inizia come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi vediamo cosa ci attende allora in regione avremo cielo in prevalenza coperto con la possibilità di piogge sparse in genere deboli o moderate più probabili ad est sulla costa e sul Tarvisiano possibile qualche locale schiarita foschie e forse anche locali nebbie in pianura di notte le temperature vediamo minime particolarmente elevate dieci dieci dodici gradi in pianura tredici quindici gradi sulla costa e massime che andranno dai quindici ai diciotto gradi dopo questo primo sguardo al tempo vediamo anche com'è la situazione sulle autostrade della nostra regione il sito di autovie venete che ci dà in tempo reale le informazioni sul traffico non segnala eventi particolari solo il solito cantiere sulla a 28 e ora cominciamo la nostra rassegna stampa cominciamo la nostra rassegna stampa dalle pagine dei quotidiani nazionali dal corriere della sera che oggi apre con la notizia della nuova presa di posizione del fronte del no sul voto all'estero in occasione del referendum del 4 dicembre voto all'estero il fronte del no è pronto al ricorso nel caso in cui i voti dei degli italiani all'estero siano determinanti per il risultato del referendum berlusconi mediaset con il sì e teme ritorsioni e poi vediamo ancora sempre sulla prima pagina del corriere della sera dagli stati uniti una foto di donald trump sul trump che dice sul clima potrei ripensarci trump apre all'accordo di parigi sul clima potrei ripensarci ha detto e torna sul caso mail non chiederò un'inchiesta su ilary promette il neopresidente ha già sofferto abbastanza spiega trump in un'intervista nella redazione del new york times toni morbidi dopo che in campagna elettorale aveva minacciato di far finire in galera hillary clinton nel corso dell'incontro ha parlato anche delle nomine alla casa bianca e del conflitto di interessi tornando in italia invece una notizia che arriva dall'inps dai vertici dell'inps le tensioni al vertice se ne va il direttore generale si è dimesso cioffi in contrasto con il presidente boeri cioffi tra l'altro era stato indagato per abuso d'ufficio in seguito a un contenzioso contributivo tra l'enel dove il manager era stato direttore del personale e l'inps fatti scrive il corriere dei quali boeri non era stato informato da qui otto mesi di scontri tra i due andiamo anche sulle altre prime pagine dei principali quotidiani nazionali velocemente siamo su repubblica e vediamo che anche in questo caso c'è il il fronte del no al referendum che minaccia ricorsi sui risultati del voto all'estero e poi appunto berlusconi che dice media sette teme ritorsioni l'ex cavaliere spiega il sì di confalonieri grillo insultarenzi si comporta da scrofa ferita il comitato per il no al referendum costituzionale del 4 dicembre annuncia ricorsi se il voto all'estero risulterà decisivo per la vittoria del sì ricorreremo in pratica e la minaccia di fare invalidare il referendum intanto beppe grillo sul suo blog attacca renzi ha paura e si comporta come una scrofa ferita il premier replica non si vota sulla scrofa noi risponderemo nel merito in campo anche silvio berlusconi secondo il quale fedele confalonieri suo amico di una vita e presidente di media sette è favorevole al sì perché si temono ritorsioni per per l'azienda e poi ancora vediamo a centropagina un reportage tra i sopravvissuti della sierra leone noi dopo ebola così ritorna la vita ricorderete sicuramente l'epidemia di ebola che aveva colpito molti paesi dell'africa andiamo adesso sul manifesto velocemente i titoli di apertura voto palese scrive titola anzi il manifesto in apertura il voto all'estero non è segreto sui social gli elettori fotografano le loro scelte al referendum anche briatore esibisce il suo sì il comitato del no denuncia le irregolarità lo scontro tra grillo e renzi diventa una rissa andiamo adesso sulla prima pagina del giornale che titola così oggi in apertura c'è la prova più immigrati più crimini ma che razzismo lo studio di conf commercio dimostra la relazione pronto il piano per una mecca alle porte di milano non è razzismo è statistica uno studio di conf commercio dimostra che esiste una proporzione tra l'aumento dell'immigrazione l'aumento della criminalità per ogni punto percentuale di immigrati in più i reati salgono dello 0,4 per cento intanto a sesto san giovanni alle porte di milano viene presentato il piano per un centro islamico dai dubbi finanziamenti andiamo anche su libero veniamo anche l'apertura di libero rivolta contro i profughi i veneti e altri non ne possono più barricate roghi perfino bombe contro gli edifici destinati a ospitare gli extracomunitari il governo nasconde l'emergenza con spot sull'accoglienza ma l'italia reale si sente presa in giro anche perché i richiedenti asilo arrivano da oltre 30 paesi chiudiamo anche libero adesso andiamo sulla prima pagina del sole 24 ore un quotidiano economico finanziario si parla dell'andamento delle borse in rialzo faro sull'opec dow jones oltre 19 mila punti nuovi record per wall street milano più 1,37 per cento la migliore in europa acquisti su energia e banche sul petrolio si guarda ai tagli di produzione nonostante le resistenze di iran e iraq borse europee in rialzo dunque sulla scia dell'aumento del petrolio che prosegue il rally in vista di un possibile accordo opec e del buon andamento di wall street il dow jones supera la soglia dei 19 mila punti e i listini degli stati uniti ampliano i livelli record a due settimane dalla vittoria di trump chiudiamo anche il sole 24 ore adesso e andiamo su un quotidiano sportivo andiamo sulla prima pagina della gazzetta dello sport oggi anche oggi l'apertura è dedicata alla juve juve che ieri sera ha battuto il siviglia in champions guadagnandosi il primo posto del girone la qualificazione agli ottavi a tutta juve titola la gazzetta dello sport ribaltone con vittoria e primo posto 3 a 1 segna il siviglia poi in 10 per un'ora i bianconeri agli ottavi con marchisio bonucci e manzukic esordio di baby kin poi torneremo anche sulla gazzetta dello sport nel corso della nostra rassegna stampa sportiva ma ora spostiamo la nostra attenzione sui quotidiani locali andiamo a vedere l'apertura di messaggero veneto piccolo e gazzettino cominciamo con il messaggero veneto di udine in apertura una notizia che ci arriva dal mondo dei trasporti si parla di investimenti importanti per il miglioramento dei collegamenti ferroviari nella nostra regione friuli la rivoluzione dei trasporti in tesa regione ferrovie investimenti di 2,6 miliardi per i treni veloci andiamo a vedere a pagina 2 e 3 tutti i particolari di questa notizia ecco il titolo che richiama un po quello in prima pagina rivoluzione dei treni opere per 2,6 miliardi patto tra friuli venezia giulia e rfi per la velocizzazione della tratta tra venezia e trieste coinvolte cervignano e la tisana udine e pordenone restano in attesa il sogno di trasformare il friuli venezia giulia da una terra alla periferia dell'impero a livello di collegamenti in un territorio in cui almeno in parte l'alta velocità su treno non è soltanto un miraggio lontano che termina a mestre potrebbe in qualche anno diventare realtà grazie al protocollo d'intesa per lo sviluppo dei servizi ferroviari siglato ieri a roma dalla presidente serracchiani e dall'amministratore delegato di rete ferroviaria italiana maurizio gentile una firma che vale in soldoni un pacchetto di interventi complessivo in friuli venezia giulia da 2,6 miliardi di euro di cui 413 milioni già finanziati e che secondo serracchiani va nella direzione giusta perché finalmente rende competitiva la nostra regione e ci rende raggiungibili l'intervento principale e dal valore più consistente pari alla bellezza di 1,8 miliardi riguarda la velocizzazione dell'attuale linea che da venezia porta a trieste passando per la bassa friulana la tisana e a cervignano e che attualmente costringe sempre più spesso i passeggeri a veri e propri viaggi della speranza lunghissimi e scomodi nell'accordo quadro si prevede una serie di interventi propedeutici tali da ottenere effetto immediato sul traffico ferroviario e poi c'è successivamente saranno realizzate anche varianti al tracciato in modo tale che alla conclusione dei lavori entro il 2025 si potrà viaggiare in poco più di un'ora tra venezia e trieste per quanto riguarda udine pordenone invece bisognerà attendere che per il potenziamento di velocità venga trovata una quadratura del cerchio con tren italia tra gli altri interventi la realizzazione di una nuova fermata entro il 2018 all'aeroporto di ronchi dei legionari e poi ancora per quanto riguarda il nodo di udine confermato anche l'intervento sul capoluogo friulano già oggetto di un finanziamento statale di 50 milioni di euro adeguando le strutture esistenti ai parametri del corridoio adriatico baltico la prima fase dei lavori prevede la realizzazione della nuova stazione merci di cargnacco l'informatizzazione e completamento del sistema di controllo e gestione dello scalo di udine con la soppressione di due passaggi a livello in comune di pavia di udine e uno nel territorio di pozzuolo per quanto riguarda invece l'annosa questione dei passaggi a livello all'interno della città come spiegato dall'assessore maria grazia santoro la prossima settimana c'è l'impegno di regione rfi per iniziare una valutazione sulla possibilità di spostare fuori città non soltanto come già previsto il traffico merci ma anche quello passeggeri studiando quindi la possibilità di eliminare le barriere e poi ancora sempre per quanto riguarda i trasporti ferroviari vediamo che rinasce la gemona sacile con vogli al via nel 2018 finanziamento nazionale da 17 milioni per riattivare la linea sospesa dal 2012 tra gli obiettivi c'è lo sviluppo turistico dei comuni della destra tagliamento e ancora due notizie sempre per quanto riguarda i trasporti i lavori per la terza corsia della a4 del rio apre il cantiere porto gruaro gonars parte la costruzione del tratto più importante in friuli della terza corsia 26 chilometri per 442 milioni e infine l'aeroporto calo di passeggeri nei primi dieci mesi del 2016 meno 2,9% colpa di Ryanair che ha tagliato il collegamento con Alghero ma torniamo in prima pagina adesso andiamo a vedere anche le altre notizie in primo piano c'è la questione migranti la questione profughi la questione accoglienza profughi accampati tra i rifiuti davanti al cimitero titola il messaggero veneto di udine è emergenza in città ecco una foto e poi ancora a gemona si integrano funziona alla rete di solidarietà per i migranti nelle pagine interne poi abbiamo tutto l'articolo per quanto riguarda la cronaca andiamo di spalla si parla della fiera del lavoro in programma sabato occupazione 60 aziende assumono 240 laureati sabato nel teatro del capoluogo friulano 60 aziende nazionali e internazionali selezioneranno 240 laureati per un posto e poi è svaleggiato uno studio dentistico in città un bottino da 30 mila euro e infine a paluzza si è spento l'imprenditore duilio cescutti aveva 74 anni la politica nel taglio alto con i lavori del consiglio regionale che ha licenzato ieri la nuova legge sul turismo ecco la legge sul turismo c'è la tassa di soggiorno questo il titolo in prima pagina e poi nelle pagine interne abbiamo tutti gli approfondimenti con tutte le novità introdotte da questa nuova legge la novità principale appunto è l'introduzione della tassa di soggiorno il firuli venezia giulia era l'unica regione che ancora non l'aveva fatto una tassa che andrà da 50 centesimi a 2,5 euro l'ignano grado e trieste la applicheranno di sicuro criteri innovativi e trasparenti per la ripartizione degli incassi dei comuni e vediamo in questo box anche il gettito stimato di questa tassa di soggiorno per l'ignano un milione e mezzo di euro un milione per trieste 500 mila euro per grado e udine e via via poi tutte le altre località nell'articolo vediamo anche le altre novità appunto previste dalla legge regionale sul turismo dalla nuova legge regionale sul turismo e a proposito di turismo andiamo in montagna dove si discute sul no dell'Austria a uno schipass unico sul pramollo la carinzia dice no allo schipass unico ombre su pramollo perplessità degli operatori tarvisiani dopo la decisione torna in discussione il progetto da 50 milioni di euro il sindaco carl'antoni dice se si tratta del buongiorno forse un pensierino è arrivato il momento di farlo su queste basi difficile gestire i poli in modo congiunto barbara zilli l'eliminazione del ticket trasfrontaliero rappresenta una vera doccia fredda per appassionati e famiglie torniamo in prima pagina adesso andiamo a vedere ancora qualche articolo nel taglio alto si parla del rapporto dell'istat che ha analizzato la situazione della vita in italia italiani più soddisfatti rispetto agli anni scorsi temono smog e crimine e poi ancora tornando invece alla politica vediamo di spalla la ripresa del faccia a faccia televisivo tra Serracchiani e Salvini sul referendum duello sul referendum scrive il messaggero veneto andando invece nel taglio basso troviamo due troviamo due articoli che ci portano alle pagine dedicate alla cultura il primo ci racconta del nuovo libro dell'ultimo libro di Pierluigi Cappello il poeta dell'energia e della luce domani la lettura di stato di quiete questo il titolo appunto dell'ultimo libro di Cappello e poi fenomeno scandinavia con Larsson a dedica per quanto riguarda lo sport invece vediamo anche sul messaggero veneto la Juve che vince a Siviglia ci sono stati degli scontri tra eh tifosi sono stati aggrediti anche alcuni tifosi giuventini ehm italiani chiudiamo eh il messaggero veneto di Udine andiamo sul messaggero veneto di Pordenone e vediamo che in questo caso eh tiene banco il dibattito che si è aperto in consiglio comunale sulle eh spese per il Natale ecco il titolo ora in consiglio si litiga pure sulle spese di Natale l'accusa del centro sinistra sprecate gli utili delle società partecipate il sindaco Ciriani replica ci chiedete sobrietà ma avete lasciato il bilancio senza fondi andiamo sul messaggero veneto di Gorizia adesso vediamo che anche in questo caso il commercio in eh primo piano commercianti ascoltati per quanto riguarda la messa a punto dei cantieri per i lavori in corso ascoltati i commercianti a gennaio i lavori in corso posticipato l'intervento di riqualificazione per non penalizzare lo shopping natalizio l'annuncio del sindaco nell'incontro con i negozianti rivisto anche il cronoprogramma dei lavori si inizierà sul lato del teatro i nuovi marciapiedi saranno realizzati in pietra di eh aurisina andiamo adesso sulla prima pagina del piccolo il piccolo di Trieste vediamo come apre il eh quotidiano del capoluogo regionale Trieste e Gorizia in sette ai eh comandi in realtà questa è la prima pagina del piccolo di ieri eh vediamo se riusciamo a trovare quella eh di oggi intanto andiamo sul eh gazzettino e vediamo che in questo caso il titolo di apertura ci porta alla notizia con la quale hanno aperto eh tanti altri quotidiani nazionali lo scontro totale sul referendum con gli insulti eh tra eh Grillo e eh Renzi ecco la prima pagina del eh gazzettino noi andiamo subito nelle pagine interne e andiamo a vedere proprio il l'articolo che apre le pagine dedicate al eh Pordenonese si ritorna sul sul maltempo sulle zone a rischio eh maltempo pioggia frane e eh allagamenti ecco la mappa del rischio sono almeno sei le zone da bollino rosso a fronte del maltempo previsto in settimana preoccupa la vassa pordenonese ma probabilmente ma problemi scusate anche a Sacile e per le frane in montagna la burrasca di sabato è passata e l'allarme per ora è rientrato ma la pioggia non lascerà la provincia di Pordenone per gran parte della settimana infatti sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco e venti di scirocco e la combinazione più pericolosa il mare non riceve l'acqua dei fiumi e le forti precipitazioni ingrossano questi ultimi fino a toccare i livelli di guardia così il territorio si prepara a giorni da bollino rosso e venerdì è previsto un nuovo eh peggioramento intanto resta ancora chiusa la strada provinciale che unisce Frisanco a Meduno l'asfalto ha ceduto a Navarons e le operazioni di ripristino sono in corso la mappa del rischio idrogeologico provinciale però non riguarda solo la fascia prealpina anzi le maggiori preoccupazioni arrivano dalla bassa pianura pordenonese si tratta del territorio che presenta i maggiori problemi spiega l'assessore regionale alla protezione civile Panontin da Pasiano a Prata e fino al confine con il Veneto tutta la bassa ha problemi livenza meduna e fiume fiume i tre eh sorvegliati eh speciali ha detto eh l'assessore. Rimaniamo sulle pagine eh del eh gazzettino e andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti su eh quel ehm quel tubo bomba che è stato eh rinvenuto nei giorni scorsi alla base di eh Aviano eh dopo l'atto dimostrativo dell'altro giorno potenziati ulteriormente i controlli ci dice il eh gazzettino che spiega appunto come viene difesa la base USAF ci sono tre livelli di protezione e un servizio di intelligence americani e eh italiani collaborano intanto appunto sul caso del falso tubo bomba scendono in campo ROS e eh antimafia andiamo adesso sulle pagine del gazzettino dedicate al eh Friuli e vediamo che in questo caso c'è la politica in primo piano con le nuove regole per la eh tassa di soggiorno ecco il titolo ne abbiamo già eh parlato eh vedendo le le altre pagine dei eh quotidiani eh nazionali ritornando in prima pagina sul eh gazzettino vediamo ancora una eh notizia una polemica che eh prende spunto dall'inaugurazione di una nuova area all'aeroporto di Ronchi dei legionari all'inaugurazione non è stato usato il eh prosecco non è stato offerto il prosecco ora il Friuli vieta il prosecco meglio i vini di eh casa nostra niente bollicine venete all'inaugurazione con questa notizia noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità poi saremo di nuovo assieme per eh buttare un occhio alle notizie sportive raccontate dai quotidiani di oggi rimanete con noi di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per questa seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata alle notizie sportive andiamo allora a vedere subito cosa troviamo in primo piano oggi sulle pagine sportive del messaggero Veneto eh ci sono le notizie legate alla vittoria della Juventus in Champions contro in Siviglia vediamo appunto il titolo di apertura Siviglia perde anche sul campo passa la Juve perde anche sul campo perché come abbiamo visto anche ehm sulle prime pagine degli altri quotidiani nazionali ci sono stati degli scontri eh tra eh tifosi del Siviglia e eh tifosi della Juve nel pre partita vi abbiamo riferito la notizia anche nel corso della nostra diretta di eh ieri eh mattina eh scontri che fortunatamente non hanno eh interessato i tifosi friulani andati al seguito della Juventus eh in trenta dal Friuli stiamo tutti bene scrive eh questo articolo eh scrive Simone Tadesta in questo articolo stiamo tutti bene nessuno di noi è rimasto coinvolto nell'aggressione avvenuta al pub lunedì notte state tranquilli sono state queste le parole rassicuranti verso parenti amici rimasti in Italia dei tifosi friulani della Juventus che si trovavano a Siviglia lunedì notte in attesa della eh partita di Champions di ieri sera ed erano in città esattamente quando un eh gruppo di ultra del Siviglia ha fatto il irruzione in un locale pubblico dove stavano cenando alcuni tifosi italiani aggredendoli al grido di eh Hooligans Sevilla il presidente del raggruppamento dei tifosi ehm bianconeri del nord-est dice tutti arrivati regolarmente allo stadio per vedere la eh partita questo per quanto riguarda la cronaca legata appunto a eh questo evento eh sportivo ma adesso andiamo a parlare di Udinese voltiamo pagina e eh vediamo che eh ci sono in primo piano le decisioni del del giudice eh della Lega Serie A che ha smontato come scrive il messaggero veneto le accuse di razzismo piovute da Napoli nei confronti eh del del tifo friulano il giudice dice nessun bu a eh Kulibali la panna montata Napoli si sgonfia dopo il comunicato emesso ieri dal giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastandrea al Friuli lo scorso sabato non c'è stato alcun bu rivolto al senegalese Kulibali come ha sostenuto per un paio di giorni il portale il calcionapoli.it che aveva utilizzato anche i social per diffondere le accuse di razzismo nei confronti del pubblico bianconero circa ventimila spettatori anche se alcune migliaia avevano i colori azzurri nel eh cuore. Nessuna beatificazione del Friuli per carità lo stesso giudice ha inflitto un' ammenda ludinese per alcuni cori della Curva Nord alla fine del primo tempo ma dire che è stata una serata imbevuta di antisportività e razzismo come emerge dal servizio del sito web napoletano è quanto di più falso può esserci. Non si tratta di una questione di ehm eh di lana caprina lo dicono i numeri nelle prime ventiquattro ore sulla pagina Facebook del portale il post con la ricostruzione di eh parte delle accuse gratuite alla tifoseria friulana aveva raccolto oltre tremila duecento like, trecentocinquanta condivisioni e centinaia di eh commenti. Queste dunque le eh decisioni del giudice eh sportivo messaggero veneto sottolinea anche un altro fatto il fatto che finiscono in cavalleria i fumogeni e i bomboni fatti esplodere al friuli dai tifosi partenopei come leggiamo anche proprio in questo comunicato ufficiale del giudice eh sportivo la grazia per i petardi napoletani titola il messaggero il comunicato invece ehm sottolinea appunto la delibera che prevede di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società di cui ha la premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori anche ehm i tifosi di Atalanta, Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e Sampdoria avevano lanciato eh appunto dei eh petardi durante le partite delle rispettive quadre squadre e non sono stati eh sanzionati ma veniamo al al calcio giocato alla preparazione dell'Udinese in vista della prossima gara di campionato contro il Cagliari eh del Neri ha ritrovato in gruppo anche Evandro che attende l'ultimo via libera non solo Alfredson e eh Pegna Randa dunque l'Udinese ha ripreso la preparazione ieri proprio in vista della prossima gara di eh campionato io direi di andare a vedere il servizio che hanno realizzato i colleghi della redazione sportiva e che ci racconta appunto com'è andato l'allenamento di ieri vediamo Martedì pomeriggio allenamento per l'Udinese di Gigi del Neri oggi sul campo numero tre del centro sportivo Bruseschi il tecnico di Aquileia ha provato alcune soluzioni già in vista della gara con il Cagliari ma si è concentrato soprattutto su queste partitelle a campo ridotto ad altissima intensità il gruppo si è diviso quelli che hanno giocato con il Napoli hanno sostenuto una sessione fisica supplementare di integrazione atletica mentre gli altri anche quelli che hanno giocato meno nella gara con gli azzurri hanno appunto sostenuto questa sessione tecnico tattica alla quale poi si è giunta anche una parte atletica in mostra in grandissima mostra Pegna Randa e Alfredson che oramai possono essere considerati pienamente recuperati per i prossimi impegni resta il dubbio su chi giocherà a sinistra con il Cagliari vista la squalifica di Felipe si candida chiaramente come sostituto numero uno Samir ma occhio anche alle candidature di Ali Adnan e Armero anche loro spingono per provare a giocare come terzini sinistri sappiamo che sono due giocatori che magari hanno più la vocazione offensiva rispetto a quella difensiva però anche loro stanno provando a mettere in difficoltà Gigi Del Neri si tornerà a giocare alle 15 dopo la gara con il Sassuolo era ancora Beppe Iachini sulla panchina dell'Udinese per cui anche sotto questo punto di vista l'Udinese ritroverà il pomeriggio si tornerà a giocare alle 15 e ci auguriamo che la squadra possa farlo possa tornare a giocare alle 15 con una con una vittoria e perché no provare ad allontanarsi a quella che è la zona rossa della classifica questo report sull'allenamento di ieri torniamo adesso sulle pagine del messaggero veneto che oggi dedica un articolo alla strana parabola di Lodi da uomo chiave ha scaricato un anno fa portò fuori dalle secche del fondo classifica la banda di Colantuono adesso è ai margini del progetto e a gennaio cambierà sicuramente aria scrive il messaggero il centrocampista potrebbe restare ad allenarsi a Catania per il prossimo mese in attesa di trovare una sistemazione il suo contratto scade nel giugno del duemila diciassette andiamo sulle pagine del gazzettino adesso sempre per vedere quello che ci raccontano sulla nostra Udinese Udinese che a Cagliari giocherà la 1500esima gara in A ecco il titolo Udinese a Cagliari 1500 gare in A domenica la società raggiungerà lo storico traguardo nel massimo campionato il compleanno dell'Udinese che mercoledì 30 festeggerà ufficialmente 120 anni il brindisi si terrà in occasione della gara casalinga con il Bologna del 5 dicembre sarà preceduto dall'inaugurazione della nuova sede del CONI regionale alla Dacia Arena ma anche domenica da un alto traguardo di prestigio contro il Cagliari i bianconeri disputeranno la gara 1500 in Serie A a partire dal 10 settembre 1950 quando debuttarono nel massimo campionato a San Siro sconfitti dal Milan di Gren Nord al Lidl per 6 a 2 al timone del Sodalizio c'era Giuseppe Bertoli titolare dell'allora più grande industria di Udine le officine di Paderno che in soli due anni portò la squadra dalla C alla massima serie e a proposito dei festeggiamenti e per questo importante compleanno il il Gazzettino ci ricorda appunto la festa del 5 dicembre per i 120 anni bianconeri e poi ancora ancora due articoli che riguardano appunto lo stadio, stadio Friuli favorito per ospitare Italia Albania il 24 marzo del prossimo anno manca però ancora l'ufficialità sottolinea il Gazzettino ma ciò che filtra dagli ambienti vicini alla FIGC assomiglia molto a un annuncio e poi ancora un altro evento alla Dacia Arena l'industria di Pordenone in visita alla Dacia Arena domani dalle 14.30 alle 19.30 per io sono brand percorso di lavoro organizzato dalla sezione terziario avanzato della territoriale di Confindustria e dalla società di calcio Friulana si parirà di come valorizzare il marchio in pronta unica per ogni azienda creando un momento di aggregazione tra imprenditori in un contesto stimolante lo stadio di recente ristrutturato appunto dall'Udinese. Tornando invece al calcio giocato nel taglio basso alcuni numeri che fotografano la situazione della difesa friulana con del neri difesa sempre bucata non è solo un problema di terzini dice il gazzettino in sei partite subiti nove gol. L'Udinese non è più remissiva come in avvio di stagione Gigi Del Neri ha ritrovato la vena realizzativa di Sirile Terò e rilanciato Fofana a centrocampo ma il cerchio non è chiuso scrive Marco Agrusti c'è un difetto che il tecnico non è ancora riuscito a correggere e che rappresenta la sfida più grande da qui al termine della stagione. Il reparto difensivo bianconero fa acqua e spesso non solo sugli esterni ma da tutte le parti è una sensazione palpabile avvertita dai tifosi ogni pallone che arriva dalle parti di Carnezi si si trasforma in un pericolo così non va bene il bilancio è in grosso scrive ancora il gazzettino. Rimaniamo sulle pagine di questo quotidiano ma andiamo a parlare di Pordenone e Pordenone Reduce dalla bella vittoria contro il Modena che lo ha proiettato al secondo posto in classifica Cattaneo Berrettoni gli artisti neroverdi. Il Monday Night di Lega Pro si è tinto di neroverde anche coloro che non utilizzano computer tablets o smartphone per collegarsi con SportTube TV o che normalmente si recano al De Marchi per assistere su Maxi Schermua in match in trasferta dei Ramarri hanno potuto finalmente vedere il Pordenone. Rai Sport ha trasmesso in diretta dal Braglia di Modena la marcia trionfale dell'orchestra di Tedino facendo apprezzare l'acuto di Burrai e gli assolo di Cattaneo. Alla fine i Ramarri sono usciti fra gli applausi degli stessi tifosi gialloblu con tre punti, tre gol e il secondo posto in classifica a due sole lunghezza dalla capolista Venezia. Di più non si poteva chiedere al posticipo della quattordicesima. E allora andiamo a rivedere anche noi le azioni principali di questa gara che ha visto vincere nettamente il Pordenone. Vediamo il servizio. Contro il Suttirol con un gol al novantesimo. Intanto vediamo la gran conclusione dalla distanza di Luca Cattaneo che sblocca il punteggio al quarto minuto di gioco. Modena zero Pordenone uno. Ma che conclusione è riuscito a fare un controllo orientato sul sinistro. Ha lasciato partire un gran tiro. Gli è rimbalzato davanti di collo. Tiro potente, preciso. Manfredini non ci può arrivare. Traversa gol. È un grandissimo tiro, un grandissimo gol. Questo per Luca Cattaneo che porta in vantaggio il Pordenone. Calcio di punizione in favore del Pordenone. Cinque uomini in barriera per il Modena. Visuale limitata per Manfredini. Il pallone che gira e finisce in rete. Grandissimo gol di Burrai. Bisogna dire che il Pordenone non ha calciato tante volte verso la porta del Modena ma quelle due volte che l'ha inquadrata. Prima Cattaneo adesso con questa punizione di Burrai ha segnato. Una grande punizione. Non ha esultato. Burrai, ex giocatore del Modena, ma che è in esecuzione. Hai 22 anni e il giornalista Gildo Marchi definì i neroverdi, i ramarri del noncello. Il noncello è il fiume che attraversa Pordenone. Terzo gol, terzo gol del Pordenone al trentatreesimo. Stato annullato. Era andato in gol Rashid Arma che non è d'accordo con il primo assistente che ha alzato la bandierina indicando la posizione di fuorigioco dell'attaccante neroverde. Da qua non riusciamo a interpretare se è fuorigioco o meno. Di sicuro l'esecuzione è stata ottima. Ci riprova, ci riprova in diagonale Rashid Arma e arriva ora il 3 a 0 del Pordenone, la doppietta di Cattaneo. E comunque è bastato solamente un minuto per andare a intercettare palla, mettere questa filtrante ancora una volta di Berrettoni con Arma che mette questo bel diagonale. Buona la parata di Manfredini sulla seconda palla. Non c'è nessun difensore del Modena e Cattaneo riesce a realizzare a porta vuota, si fa veramente dura per il Modena ma è una squadra esperta che sa stare in campo e che ha due trequartisti Cattaneo in doppietta questa sera e Berrettoni immarcabili. E lì stavamo vedendo i tifosi del Pordenone che hanno seguito la squadra a Modena, una trentina di eroici supporter a festeggiare l'expload di Modena, scrive il messaggero Veneto. Andiamo a vedere anche l'altro articolo dedicato sempre al Pordenone. Bunker Pordenone, rivoluzione a Parma. I ramarri non subiscono gol, giallo-blu è su Zeman, Crespo e Rossi. Se il Pordenone ha ripreso a volare, tanto da essere secondo alle spalle del Venezia, i motivi sono tanti ma uno è sopra gli altri la tenuta difensiva. Sono 361 i minuti di imbattibilità del portiere Matteo Tomei, una serie iniziata dall'89esimo della sfida con l'Alto Adige e proseguita nei match con Ancona, Lumezzane, Reggiana e Modena. Era il segreto che aveva caratterizzato il cammino dell'anno scorso. Si è tornati così alle origini per riprendere la cavalcata verso i quartieri alti, una zona in cui si trova anche il Parma, anche se non sembrerebbe visto quanto accaduto fuori dal campo nelle ultime ore. Esonerato ieri il tecnico a Polloni e la coppia dell'area tecnica Minotti-Galassi. Sono state inoltre accettate le dimissioni del presidente del CDA, Nevio Scala. E poi vediamo anche il percorso che attende il Pordenone nei prossimi, nelle prossime giornate di campionato, titolo d'inverno per i ramarri, percorso in salita, scrive il messaggero favorito il Venezia capolista con un calendario più abbordabile. Ma il cammino migliore è della San Benedettese. Vediamo appunto le prossime sfide che attendono il Pordenone in casa con il Fano e poi vediamo Padova, Albinoleffe, Feralpissalò e San Benedettese. Chiudiamo queste pagine dedicate al calcio per spostare la nostra attenzione sul basket, sulla GSA, che si prepara alla prossima sfida a Cividale in programma domenica. Andiamo a vedere allora l'articolo di oggi sul messaggero Veneto. Sentite Air Okoye, difesa e gruppo, così Udine vola alto. Parla l'ala nigeriana, sempre più a suo agio nella squadra. Città bellissima, dice manca solo il mio cane Ese, ma è in arrivo. Aveva iniziato il campionato alla grande, poi per tre gare è stato ridimensionato dagli avversari, ma nell'ultimo match è tornato a essere decisivo. Stan Okoye, l'ala nigeriana dal passaporto statunitense alla PUGSA a Verona, ha forse assunto ciò che è veramente, a forse riassunto scusate, ciò che è veramente un giocatore atletico con una grande esplosività fisica che fa dell'energia al suo cavallo di battaglia. Ogni tanto rischia una forzatura di troppo, ma quando la giocata conta veramente risponde presente, come nel finale di domenica in casa Scaligera, dove ha infilato due triple di importanza eh capitale. E poi appunto l'articolo eh prosegue con eh l'intervista a ehm al giocatore della PU. Chiudiamo questa pagina del eh messaggero Veneto e andiamo a vedere velocemente le prime pagine di alcuni quotidiani sportivi nazionali, a cominciare dalla Gazzetta dello Sport, l'abbiamo già vista prima velocemente e in primo piano in apertura abbiamo la Juventus, la vittoria della Juve in Champions a tutta Juve ribaltone con vittoria e primo posto segna il Siviglia poi in dieci per un'ora. I bianconeri agli ottavi con Marchisio Bonucci e Manzuchic esordo esordio scusate di Baby Keen e poi leggiamo anche l'analisi di Luigi Garlando. Bene, brava in vetta, ma così non basta. Si è procurato un rigore in una zuffa da corner e ha segnato il 2 a 1 con una rasoiata al volo. Non è un caso che sia stato Leonardo Bonucci l'eroe della vittoria sul Siviglia che vale la qualificazione e il quasi certo primo posto nel eh girone. E poi sempre a proposito di Champions ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera del Napoli con la Dynamo Mertens guida la carica a Napoli sarà dura. Conta passare. Nel taglio basso si parla di Belotti, Belotti Boom, Mulo corteggia, il Toro si tutela, clausola da 94 milioni per eh averlo. E poi ancora vediamo in casa Inter, guai per Medel, out per un mese dopo l'infortunio al menisco. Artroscopia per il cileno tornerà all'inizio del duemila diciassette. Santon eh K.O. salta la eh Coppa. Ventura Vara l'Italia scusate Ventura Vara l'Italanta con sette gioielli di eh Gasperini. Tanti i giocatori appunto dell'Atalanta scelti da Ventura per la nazionale Gagliardini e compagni al lavoro a Coverciano il CT punta su di loro per il eh futuro. E poi ancora vediamo il rompipallone di eh Gene Gnocchi Palermo continua lo scandalo delle firme eh false quelle del Movimento 5 Stelle. Zamparini spera che ci sia anche quella di De Zerbi. E ancora eh anche sulla gazzetta vediamo le novità in casa Parma. Il Parma boccia i suoi miti via Polloni e Minotti. Scala lascia la eh presidenza. E poi nelle basket eh euro sorteggio troviamo la Lituania ma possiamo sorridere. Andiamo velocemente anche su Tutto Sport e Corriere dello Sport. Vediamo che anche in questo caso Juve protagonista dei titoli di apertura. Tutto Sport scrive i Barbieri di Siviglia. Marchisio Bonucci e Mandzukic rasano a zero gli spagnoli. La Juve è agli ottavi. Andiamo anche sul Corriere dello Sport. Juve Meraviglia il titolo di apertura. Siviglia battuto. Bianconeri agli ottavi. Grande rimonta. Primato e qualificazione. In gol Marchisio su rigore Bonucci e Mandzukic spagnoli in eh dieci. E prima di fermarci per un po' di pubblicità vi segnalo anche un altro articolo che troviamo oggi sulla vita cattolica in edicola eh proprio da oggi. È un articolo dedicato a mister Del Neri. Abbiamo sgarfato nella vita privata di mister Del Neri scrive la vita cattolica e vediamo appunto questa foto, questo richiamo in prima pagina poi nelle pagine interne tutta l'intervista. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità poi saremo di nuovo insieme per il nostro consueto spazio di approfondimento che oggi ci porterà a Muzzana. Muzzana a terra di tartufi forse in molti non lo sanno ma c'è un bosco millenario che eh appunto ha un terreno ottimo per la crescita dei eh tartufi e domenica nel fine settimana c'è un'importante manifestazione dedicata proprio al tartufo pregiato di Muzzana. Rimanete con noi.